Ciao Patatoni, benvenuti a Devo Dirti Un Fatto, la rubrica di approfondimento di Consigli Non Richiesti che parla di serie tv, film e fumetti. Oggi parliamo di remake, questa moda di rifare i film e rifare film belli soprattutto. Perché rifarli se sono già belli? C'è un modo per poter utilizzare questa tecnica del remake, cioè riprendere vecchie glorie e riportarle alla luce in maniera corretta? Io un'idea ce l'ho e ho anche un esempio. Buffy, fumetto che sta per uscire per Saldapress, ma ne parliamo dopo la sigla. Partiamo dal presupposto, che secondo me la moda del remake parte da un presupposto sbagliato. Non si dovrebbe fare un film che è uscito bene. Cioè l'idea di fare un remake, prendere una vecchia gloria e riproporla alle persone giovani che se lo sono persa, secondo me è una cazzata perché molti film funzionano anche adesso, non sono invecchiati affatto male. Io penso alla Casa 2 perché hanno fatto quel remake che magari non rispetta neanche lo spirito del film, oppure anche se odoro tantissimo, le coline hanno gli occhi, diciamo che il remake non ha avuto molto senso perché era molto simile all'originale. E' vero, io lo reputo anche migliore, ma i casi in cui il remake supera l'originale sono pochi. Piuttosto conviene concentrarsi sui remake dei film brutti, perché quando un film è brutto ma ha una bella idea e non è stata sfruttata adeguatamente, magari un cineasta, un regista bravo potrebbe prendere l'idea di quel film e rifarlo, ma stavolta fatto bene. Cioè mi viene in mente il film La Notte del Giudizio, com'è che si chiamava? Quello dove stanno le persone in casa e che una volta all'anno si può fare quello che cazzo si vuole. Cioè c'è questo film dove c'è una legge che per evitare la violenza, una notte e l'anno chiunque può andare in giro a squartare, a menare e non gli succede nulla. Diciamo che il giorno della purga, tipo in inglese mi pare che si chiamasse The Purge, il film, in italiano c'è un titolo orrendo come tutti i titoli italiani. Cioè il film ha una bella idea, mi sa che c'era i Tanook e hanno fatto anche dei seguiti, anche carini seguiti, ma il film principale secondo me poteva essere sfruttato meglio e secondo me lì ci potrebbe stare un bel remake. Oppure mi viene da pensare ad Alieni contro Cowboy, che come idea, anche il fumetto faceva schifo, è tratto da un fumetto, però come idea, l'idea di far menare i cowboy con gli alieni sembra una figata trash, il film è trash e basta, perché comunque con si tratta di trash non è facile riuscire a tirare fuori un bel film, perché c'è sempre la sottile linea tra immondizia e trash, che anche se sono sinonimi l'immondizia è immondizia. Comunque vi volevo parlare anche del fatto, e questa cosa qui ve l'avevo già accennata, che molto spesso alcune serie importanti che magari finiscono il budget non hanno una media di ascolti abbastanza alta, perché ricordiamoci che un film è un costo, una serie televisiva è un costo anche importante, perché poi alcuni attori diventano importanti, vogliono essere pagati, mi ricordo che l'ultima stagione di Friends, ogni episodio, oppure The Big Bang Theory, ogni episodio gli attori si facciano pagare uno sproposito. Quindi che succedeva? Il fumetto, a differenza del cinema e del, come cavolo si chiamali, della serie televisiva, ecco, sono parole importanti che uno poi se le scorda, beh, il fumetto non ha budget, cioè a parte pagare il disegnatore e pagare lo scrittore del fumetto, tu puoi fare qualsiasi cosa, tu puoi mettere in una vignetta una massa di orde, di orchi, e non devi pagare la tizia degli effetti speciali, non devi pagare le comparse, non devi pagare, tipo, la computer grafica per fare gli orchi, basta che c'è un disegnatore bravo. Quindi molto spesso alcune serie continuano sui fumetti, penso a Smallville, penso ad Adventure Time, penso anche a Buffy, Buffy è proseguita poi l'ottava stagione, adesso non mi ricordo, sul fumetto. Quindi, visto che non si poteva magari avere i soldi per fare una nuova serie, si continuava sul fumetto. Io mi ricordo che ci sono anche dei film che continuano, delle serie cinematografiche che continuano sul fumetto. Io penso ad Ash contro Alien, contro Predator, che è un film che non avrebbe mai potuto vedere la luce per, non so per quelle questioni di diritti, non so per quale questione anche di chiamare gli attori o di mettere d'accordo i franchise, che magari sul fumetto rompano meno il cazzo. E quindi abbiamo potuto leggere delle storie che per colpa del budget e del concetto che il fumetto è a zero budget, a parte i soldi che spendi per pagare i due tipi, il disegnatore e lo scrittore, permette di continuare delle storie. Quindi mi sono chiesto, e secondo me se lo sono chiesti anche altre persone, ma perché i remake non vengono fatti sui fumetti? C'è una serie televisiva, per esempio Buffy, che è invecchiata malissimo. Se tu guardi adesso Buffy, lo guardi ora, sembra una trashata, poi le serie televisive, il linguaggio delle serie televisive si è evoluto. Ora una serie televisiva di 24 episodi con una trama verticale, cioè una trama che si consume in un solo episodio, non tutti riuscirebbero a vederlo. Adesso la gente vuole Bing Watching, vuole le trame decompresse, cioè compresse, perché prima le trame erano decompresse, cioè gli eventi si allungavano, c'era questo sbrodolio di eventi che per una stagione non succedeva nulla, tranne nell'episodio prima di Natale e nell'episodio a fine stagione. Io penso a X-Files, di recente è uscita una lista di episodi di X-Files che va vista per vedere la trama che prosegue, e su 9 stagioni gli episodi sono tipo 17, quindi solo in 17 episodi la trama va avanti, il resto è tra virgolette cazzeggio, che ci può anche stare, ma perché prima il concetto della serie era diverso. C'era un episodio a settimana, tu ti guardavi la tua avventura, ora invece con il concetto di streaming, con il concetto di abbiamo poco tempo a disposizione, vogliamo avere delle storie belle schiacciate, magari anche serie televisive da 6-7 episodi, o anche serie televisive che si concludono in una o due stagioni. Adesso l'idea di sapere che una serie televisiva potrebbe andare avanti per 12 stagioni, ci viene il magone. Quindi che cosa fare? Io ho pensato a Buffy perché di recente è uscito un fumetto, anzi uscirà il 19 di marzo per Saldapress, un fumetto di Buffy, che io ho già letto, come l'ho già letto, fatevi i cazzi vostri, perché vi do racconti i cazzi miei? No, comunque me l'hanno mandato quelli di Saldapress, io sono uno abbastanza trasparente, me l'hanno mandato da leggere e ho visto che è un remake della serie. Ed è un remake che rinarra le avventure, cioè in chiave moderna, non ci sono le allungaggini della serie televisiva, i personaggi si incontrano subito, subito viene tirato in mezzo Spike, subito vengono tirati in mezzo dei cattivi che sono anche diversi da quelli della serie. Quindi chi l'ha già letto la serie la può rileggere in questo fumetto, chi invece non ha mai letto Buffy può avvicinarsi dove i personaggi disegnati sono proprio disegnati molto simili alla controparte reale. Cioè quindi li possiamo rivedere da giovane Willow, possiamo rivedere Sarah Michelle Gellar, che è una dei pochi personaggi che mi ricordo il nome perché la cerco su YouTube e la cerco su internet in generale. Non chiedetemi perché, perché sono un signore. Comunque è stato possibile rifare Buffy, moderno, senza dover pagare gli attori e senza dover fare come ha fatto Scorsese in Irishman, ringiovanendo artificialmente gli attori. In questa maniera si è potuto rinarrare queste avventure, rendendoli moderne e soprattutto facendo avvicinare qualcuno al franchise, qualcuno che guardando la serie, perché io l'ho guardata ragazzi la serie, da ragazzo l'ho trovata meravigliosa, ma se la riguardate adesso è invecchiata non male, malissimo, soprattutto i dialoghi. Quindi che succede? Si trova davanti un prodotto ben strutturato, un bel fumetto, dal taglio moderno, moderno e soprattutto chi magari è fan di Buffy e lo vuole far conoscere, che ne so, adesso mi viene da dire una roba da boomer, al proprio figlio, al proprio nipotino, così da poter dire, hai presente papà che c'è il poster in camera, di quella tizia con un bastone in mano, bene, quella lì che non è vostra mamma, quella lì è Buffy e adesso la conoscete anche voi. Perché il fumetto di Buffy è indirizzato a un pubblico di giovani, cioè questo fumetto è uscito il 19 marzo, è vero, riprende i canoni della serie, ma non ha rispettato il concetto di Harry Potter. Qual è il concetto di Harry Potter? Il concetto di Harry Potter è che i libri, se ci avete fatto caso, man mano che sono usciti, diventavano grandi come diventava grande il lettore. Siamo passati da un libro infantile, tra virgolette, che era la pietra filosofale, un libro per bambini, ai Doni della Morte, che comunque era bello, non dico pesante, però era un young adult, quindi c'è stata un'evoluzione, come il personaggio cresceva di Harry Potter, così crescevano anche le tematiche della serie. Si è passato da un ragazzino di 7 anni, che raccontava storie infantili, non so, o 9 anni, non mi ricordo quanti anni avesse Harry Potter nel primo episodio, a un 18enne, 17enne, con un young adult. Sta cosa qui non è successa con Buffy, quindi se voi non siete fan di Buffy e lo volete recuperare, vi scontrerete davanti a un fumetto un fumetto per ragazzi. Quindi partite da questo presupposto, poi ovviamente è divertente, c'è tutto, ci sono i vampiri, ci sono le magie, però non vi aspettate un The Watchmen, d'altra parte non vi aspettate neanche dialoghi profondi, ma aspettatevi la scansonatezza di una serie per ragazzi. Ma se invece volete rivedere, rilivere la serie di Buffy in chiave moderna, potete tranquillamente leggere il fumetto, oppure se volete far conoscere questa serie a qualcuno che non l'ha mai vista, è che vedendo la serie televisiva, vi dice in faccia, oh caro Boomer, cos'è questa roba, anni 90, oh zio, a me piacciono soltanto gli anni 80, mi piacciono soltanto Stranger Things. Oppure ve la tenete da parte il DVD di Buffy, che quando tornerà di moda agli anni 90, non so, provo a indovinare, secondo me fra dieci anni, avete già lì la serie, è da guardare e dire, avete visto? Anche perché adesso non volevo dirvi, ma la serie in Blu-ray, io l'ho vista, sono passate da 4 terzi a 16 noni, e questa cosa qui di passare, di allungare le inquadrature, ha portato a far vedere all'interno dei set, alcuni errori, tipo che se ho un microfono o altro, perché l'inquadratura è stata pensata in 4 terzi, e allargarla per farla arrivare in 16 noni, ha portato a degli errori madornali, e quindi la serie va vista in 4 terzi, io ve lo dico ragazzi, se vi comprate il Blu-ray, guardatela in 4 terzi, che in 16 noni, beccate delle magagne, invece se volete guardarvi, e leggervi, la vostra bellissima serie di Buffy, a nuovo, il 19 di marzo, in tutte le fumetterie, uscirà sia in brusurato, sia in cartonato, per chi vuole la serie a blow budget, e chi invece vuole fare il profumato, col cartonato, perché c'ha gli denari, se invece volete insultarmi, venite pure su, il mio profilo Instagram, io sono fracket, tutto attaccato, oppure sul mio profilo Twitch, defracket, come il fracket in inglese, quindi TH e fracket, perché domenica guarderemo dei film brutti, e ci vediamo invece, sabato mattina, perché ci sarà consiglio richiesto, e vi darò dei consigli belli, da trovare in giro sull'internet, quindi ragazzi, ci becchiamo, alla prossima, fate i bravi!